E' attesa tra stasera e domani la sentenza della Cassazione sul processo a carico dei sette esperti della Commissione Grandi Rischi, accusati di omicidio colposo e lesioni per aver dato, dopo la riunione avvenuta il 31 marzo 2009, cinque giorni prima del sisma, rassicurazioni alla popolazione aquilana. Già dalle prime ore di questa mattina, nella capitale a Piazza Cavour, sede della Suprema Corte di Cassazione, è in corso una mobilitazione proveniente dall'Aquila. Stanno manifestando a sostegno delle vittime del terremoto e dei propri familiari, tra gli altri il Comitato 332, una rappresentanza dei Red Blue Eagles. Gli ultra dell'Aquila Calcio hanno esposto uno striscione a Piazza Cavour che recita, contro chi ha rassicurato invece di allarmare, contro un sistema malato che protegge se stesso, chiediamo giustizia. Il processo prenderà il via davanti alla quarta sezione penale, presieduta da Fausto Izzo. I giudici sono chiamati ad esaminare ricorsi presentati dalle parti civili e dalla Procura Generale dell'Aquila, contro la sentenza del 10 novembre dello scorso anno, con cui la Corte d'Appello, ribaltando il verdetto del Tribunale, pronunciò l'assoluzione per sei dei sette componenti della Commissione. Franco Barberi, presidente vicario della Commissione Grandi Rischi. Enzo Boschi, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Giulio Selvaggi, direttore del Centro Nazionale Terremoti. Gian Michele Calvi, direttore di Eucentre e responsabile del progetto Case. Claudio Eva, ordinario di fisica all'Università di Genova. E Mauro Dolce, direttore dell'Ufficio Rischio Sismico di Protezione Civile. L'unico condannato in appello fu Bernardo De Berardinis, ex vice capo del settore tecnico del Dipartimento della Protezione Civile, al quale i giudici d'Appello hanno inflitto una pena, poi sospesa, di due anni. In primo grado, invece, tutti e sette gli imputati erano stati condannati a sei anni. Tra i ricorsi presentati alla Suprema Corte, anche quello della Presidenza del Consiglio, in qualità di responsabile civile, mentre il Comune dell'Aquila la figura tra le parti civili.